Parliamo dell'ultimo argomento, un poco più, secondo me ancora più interessante, del melanoma associato a nevo. Allora, oggi, devo dire la verità, conosciamo meglio un po' perché stiamo studiando di più, un po' perché è aumentata la nostra capacità di guardare il melanoma e i nei con la dermoscopia, eccetera. Oggi conosciamo molto meglio questa storia di melanoma, nevo, nevo displastico e così via. Allora, di tre cose vi volevo parlare in questo argomento. La prima, Riccardo, che è questo giovanotto bassino che vedete qui, che lavora con Caterina a Reggio, guardate questa fotografia, è di una dolcezza infinita, o no? Guardate questa signora com'è bella. Allora, Riccardo ha pubblicato recentemente un articolo che tra l'altro ha avuto un po' di risonanza nei media, eccetera, eccetera, su che cosa? Sulla scoperta dell'acqua calda, cioè lui ha scoperto l'acqua calda. Noi sappiamo già da tanto tempo che quant'è la percentuale di melanomi che troviamo associati a nevo? 20, 30, esattamente, e questo ha scoperto lui, ok? Perfetto, ha fatto una meta-analisi, cioè significa ha preso tutta la letteratura dell'argomento, l'ha messa assieme, ci ha fatto un'analisi statistica particolare ed è venuto fuori quello che sappiamo già, cioè che il 70% dei melanomi insorge su Q tesana, ok? Allora dici perché ha avuto tutta questa risonanza, sto lavoro? Perché c'è un altro dato molto importante, ed è questo, di quel 30% di melanomi che insorge invece su un neopresistente, noi pensiamo che quasi tutti questi nei siano nevi displastici, giusto? E invece no, è la minoranza, più del 50% dei nevi associati a melanoma sono non displastici, cioè sono nevi comuni. E vi dirò di più, più del 50% dei nevi associati a melanoma sono nevi dermici, cioè sono i nei più comuni del mondo, ok? Questo è un dato che la dice lunga su che cos'è il nevo displastico. Il nevo displastico è il neo come tutti gli altri, lo chiamano displastico semplicemente perché è un po' più irregolare estologicamente e quindi non ha la faccia dei nei comuni come normalmente siamo abituati a vedere, ok? Quindi questa è la faccia più frequente del melanoma associato a nevo, vedete? Qui c'è il melanoma e qui c'è il nevo dermico, ok? Un banalissimo, stupidissimo, cretinissimo nevo dermico, ok? Allora voglio dire, questo la dice lunga su tante questioni, no? Qual è la questione? La questione è che ovviamente non è che possiamo asportare i nevi dermici per fare prevenzione, perché sarebbe una follia, dovremmo asportare 340 nevi dermici solo in questa sala, no? Insomma voglio dire, quindi il neo a noi ci frega nulla, ci frega scoprire il melanoma all'inizio della sua crescita, quindi sostanzialmente questo è il punto fondamentale. Un altro punto che però volevo discutere è questo, che argomento a parte, il melanoma che insorge su un nevo congenito preesistente, ok? Allora, in pratica io credo che se esista un precursore del melanoma, io non credo che si possa chiamare precursore, ma se esiste un precursore del melanoma, questo è il nevo congenito, ok? Non il nevo displastico, ok? Perché? Perché il rischio di trasformazione di un nevo comune, come l'abbiamo visti prima, inclusi i displastici, è 1 su 200.000, cioè un neo su 200.000 nevi acquisiti diventa melanoma. Mentre invece il rischio di un nevo congenito di trasformarsi in melanoma è mettiamo 1 a 100, ma vogliamo fare pure 1 a 1.000, facciamo 1 a 1.000, ma certo non è paragonabile a 1 su 200.000, quindi se proprio abbiamo un precursore del melanoma questo è il nevo congenito, ok? E qui c'è una cattiva notizia. Qual è la cattiva notizia? La cattiva notizia è questa, noi sappiamo che la probabilità che un nevo congenito sviluppi melanoma com'è? È proporzionale alla dimensione del neo e questo è logico, no? Se io ho un neocongenito enorme così avrò miliardi di melanociti e può essere che uno di questi possa trasformarsi, ok? Se invece c'è un neocongenito piccolo così ha meno melanociti e quindi è più difficile da un punto di vista statistico che uno di questi diventi melanoma. Però qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo rivisitato la nostra casistica di melanomi associati a nevo congenito e abbiamo visto cosa? Che la maggior parte dei nostri nevi congeniti associati a melanoma sono piccoli, sono i piccoli, 78%, 21 su 27, capisci? E allora questo che significa? Che abbiamo pensato male fino adesso? No, non abbiamo pensato male ragazzi, è solo una questione di numerosità, solo questo è. Voi potete immaginare quanti nevi congeniti di grandi dimensioni vedete in un anno? Uno? Due? Due nevi congeniti di grandi dimensioni in un anno e cazzarola quanti melanomi potrete vedere? Zero, perché è vero che la probabilità è uno a dieci, uno a dieci di questi nevi congeniti di grandi dimensioni fa melanoma, ma siccome ne vediamo uno all'anno fortunatamente non vediamo il melanoma sul nevo congenito grande. Quanti nevi congeniti di dimensioni intermedie vediamo in un anno? Di più, no? Certamente non migliaia, ma ne vediamo, non lo so, dieci, venti, cinquanta, quello che sia, ok? Qui la probabilità è mettiamo uno su duecento, quindi è possibile che una volta ogni tanto vediamo un nevo congenito di dimensioni intermedie che fa melanoma. Ma la cosa incredibile è che quanti nevi congeniti di piccole dimensioni vediamo in un anno? Tanti, tantissimi, migliaia, voglio dire centinaia, ma sicuramente tantissimi, quindi anche se il rischio è molto più basso e facciamo uno su duecentomila, cioè uguale a quello del nevo acquisito, è chiaro che prima o poi lo vediamo un piccolo nevo congenito che fa melanoma, ok? E questa non è una bella notizia, nel senso che è la verità, ma insomma non è piacevole da pensarci, perché noi pensavamo, vabbè dai, ci teniamo sotto controllo i nevi congeniti intermedi, grandi, eccetera, gli altri piccoli che ci frega. E no, invece è lì che dobbiamo stare un po' più attenti. Tra l'altro la probabilità, almeno nella nostra casistica, che un nevo piccolo congenito faccia melanoma, non è funzione dell'età, lo abbiamo visto in tutte le età, anche in bambini piccoli, ok? Quindi, capito? Quindi non è che dici, vabbè, io devo seguire il grande, l'adulto col nevo congenito piccolo, no, a tutte le età può succedere, quindi che fare? Che fare? Allora, secondo me il problema del nevo congenito grande è un grande problema, ma è piccolo dal punto di vista, diciamo, di quello che possiamo fare noi, no? Perché certamente non lo possiamo asportare, o comunque possiamo asportarne un pezzo per una questione estetica, ma certamente non riusciamo ad asportarlo, quindi possiamo solo seguirlo, ok? Quindi possiamo fare poco. Per i nevi congeniti medi, che cosa fare? Qui secondo me siamo in una fase, non ci vuoi, intermedia, cioè se è possibile asportiamolo, se è complicato lo seguiamo. Io credo che ognuno di noi debba prendere una decisione caso per caso. Io molto spesso per i nevi congeniti di dimensioni intermedie propongo di, guarda, se lo vuoi levare, lo leviamo, perché così evitiamo il motivo di rivederci ogni anno per tutto il resto della tua vita, no? E per i nevi congeniti piccoli, ovviamente non li possiamo levare, sarebbe una follia, però dobbiamo ammettere che questo può essere molto raramente un precursore del melanoma e quindi non dire, vabbè no, questo nevo congenito piccolo vai, non ti voglio vedere mai più. No, vediamo questi pazienti una volta ogni due anni, una volta ultimo argomento, sempre relativo al melanoma e nevo, è questo del melanoma pediatrico, ok? Il melanoma pediatrico, ragazzi ne dobbiamo parlare perché qui io mi sento molto talebano, perché ho visto troppi bambini ipertrattati, dobbiamo tranquillizzarci, veramente, ci dobbiamo rasserenare, perché il melanoma pediatrico, e parliamo del melanoma prepuberale, non parliamo del melanoma postpuberale, non ne parliamo, lì facciamo quello che vogliamo, ma sul melanoma prepuberale ci dobbiamo tranquillizzare perché è un evento più unico che raro, non è che non esiste, ma è un evento raro. Questa è una casistica pubblicata recentemente in cui sono stati messi assieme un bel numero di casi multicentrici di melanomi prepuberali ed è stato visto che il 70% dei melanomi prepuberali sono associati a nevo congenito, quindi in linea con quello che ci siamo detti fino adesso, ok? Il 70%. Quindi sappiamo che se vediamo un bambino con un nevo congenito, lo seguiamo e stiamo tranquilli. Viceversa, che succede di questo altro 30%, come il melanoma prepuberale nell'altro 30% dei casi, è spizzoide, da un punto di vista sia clinico che istologico, vedete queste immagini, sono lesioni rosse, alcune volte polipoidi, nodulari, brutte, eccetera, eccetera. 30% sono spizzoidi e ragioniamo però adesso un momentino su questa cosa qua, ok? Prima di trarre delle conclusioni vi voglio far vedere questo vecchio lavoro del 2005 della McKee. Rona McKee è una scozzese che ha fatto un sacco di lavoro sul melanoma, è bravissima, e ha fatto questo lavoro che si chiama, che cosa ha fatto? Ha messo insieme tutti i casi di melanoma prepuberale diagnosticati in Scozia in un periodo di tempo di 20-30 anni e li ha fatti rivedere al patologo, ok? Quindi diagnosi fatta, non so, 10 anni fa di melanoma a un bambino di 3 anni, hanno rivisto il vetrino, ok? Allora, innanzitutto, già questo ci fa capire la rarità della cosa, perché lei ha messo insieme una casistica che va dal 79 al 2002, parliamo di una popolazione di 2,5 milioni di abitanti, quindi molto meno della popolazione romana, la metà di Roma, ok? E in tutti questi anni hanno trovato 20 casi, cioè sono stati diagnosticati 20 casi di melanoma prepuberale in una popolazione di 2,5 milioni di abitanti in 30 anni, ok? A questo punto lei ha fatto rivedere i vetrini e che cosa ha scoperto? Che in 8 su 13 casi, quindi in più della metà dei casi, la diagnosi era sbagliata, non era un melanoma, ma era un neo di Spitz, ok? In più della metà dei casi. Quindi c'è una tendenza del patologo dappertutto, non solo in Italia, ma anche in Scozia, a sovrastimare la diagnosi di melanoma, ok? Perché? Perché lo Spitz, purtroppo questo è, lo Spitz è una lesione difficile, ok? Poi, in ogni caso, in ogni caso, 8 quindi di questi casi sono stati rivisti e è stata fatta una diagnosi di nevo. Che fine hanno fatto tutti gli altri casi? Tutti gli altri casi comunque stanno bene, i bambini stanno bene, solo uno di questi bambini è morto, ok? Solo uno. E questo è in linea con il lavoro di Sophie Spitz del 1940. Anche lei, nella sua casistica iniziale, in cui definì il melanoma giovanile, come lo chiamava lei, tutti i bambini andavano bene, tranne uno che morì, ok? Quindi è evidente, lo Spitz è uno spettro in cui ci mettiamo una quantità di lesioni benigne e solo raramente abbiamo in questo calderone la presenza di melanoma, ok? Voi lo sapete come io oggi vedo il nevo di Spitz. Secondo me che cos'è il nevo di Spitz? E secondo me questa è la soluzione, almeno per me è la soluzione a tutti i problemi che ci facciamo col nevo di Spitz. Il nevo di Spitz è un keratoacantoma. Ragionateci. Che cos'è il keratoacantoma? È una lesione che è tale e quale ha lo spinalioma? Però è benigno, se tu lo lasci là, se ne va, ok? Scompare. Quindi ha la faccia da spinalioma, ma è benigno, scompare. Ma come cresce il keratoacantoma? Tre settimane e diventa un bombolone così. Ma scusate, ma non è la stessa cosa che fa lo Spitz. Cresce più del melanoma. Il melanoma cresce più lentamente dello Spitz. Lo Spitz fa paura in tre mesi, boom. E poi che fa lo Spitz? Regredisce. Regredisce. Nella stragrande maggioranza dei casi. Nella stragrande maggioranza dei casi. Ok? Quindi lo Spitz è un keratoacantoma. È chiaro che ci può stare quell'un per cento, quell'un per mille, che invece di essere uno Spitz è un melanoma. Così come ci può stare. Ma perché noi abbiamo dei problemi ad ammettere che qualche volta il patologo ci ha detto keratoacantoma e poi non lo era. Era uno spinalioma e poi il paziente ci ha pizza le penne. No? È la stessa cosa. Cioè lo Spitz come il keratoacantoma è una lesione benigna, ma a volte si può sbagliare, non è uno Spitz, non è un keratoacantoma, ma è o uno spinalioma o un melanoma. Non so se ho reso l'idea. Va bene. E a questo punto, visto che ho ancora un pochino di tempo, mi ero preparato un argomentino in più perché ho detto va a finire che faccio più presto. E infatti ho fatto più presto. Vi voglio parlare di altre due cosine rapide rapide e poi facciamo un po' di discussione. Allora, due cosine rapide rapide sono, primo, una novità riguardo al nostro lavoro che facciamo con i pazienti con molte lesioni, con nevi atipici, che ovviamente che facciamo, monitoriamo nel tempo. Ok? Allora noi sappiamo oggi, lo sappiamo già da tempo, che il 10% dei melanomi che diagnostichiamo oggi, noi, tutti noi, li diagnostichiamo solo dopo follow up. Ok? Quindi uno su dieci dei melanomi che noi vediamo, li diagnostichiamo dopo tempo, dopo follow up. Il 9 su 10 immediatamente. Uno su dieci dobbiamo aspettare un po'. E lo diagnostichiamo con le immagini. Ok? Perché cambia nel tempo. D'accordo? La domanda che ci siamo fatti è, ma noi per diagnosticare questi melanomi dopo un certo numero di mesi abbiamo sempre bisogno della fotografia precedente? Oppure il melanoma intanto ha sviluppato dei criteri che ci fanno fare la diagnosi? Non so se rendo l'idea. Cioè, io mi sono reso conto che spesso io vedo la lesione e prima ancora di andare a vedere come era prima, io già so che questa lesione non mi piace più. Non so se, capito? Allora abbiamo voluto vedere numericamente questa storia. Allora è così. Noi in solo nel 30% dei casi abbiamo bisogno di vedere la fotografia precedente per fare la diagnosi. Perché nel 70% dei casi il melanoma intanto ha sviluppato dei criteri in più che aumentano il nostro indice di sospetto. Ok? E questa è una buona notizia. Significa che tutto sommato, anche se una lesione non l'abbiamo fotografata, comunque quando il paziente torna avremo più probabilità di diagnosticarlo. Ok? Vi faccio un esempio. Questa è una paziente tremenda che credo Caterina sia ancora seguendo a Reggio. Quando l'abbiamo vista noi, la prima volta, aveva già sviluppato 14 melanomi precedenti. Tu puoi immaginare. Ovviamente non ci abbiamo creduto, ci siamo fatti portare i vetrini e sono stati confermati tutti e 14 melanomi. Quindi è una roba incredibile. Io credo che esista, ma c'è poco in letteratura su questo, esista una forma frusta di xeroderma pigmentoso, perché lei ha cominciato a sviluppare tumori in tarda età, però questa è una forma leggera di xeroderma pigmentoso. Comunque c'è una serie infinita di lesioni orribili, qui l'unica cosa è monitorarle tutte e ci siamo resi conto che dopo un anno questa ragazza ha sviluppato altri tre melanomi, che sono queste tre lesioni qua, che al tempo zero erano simili a tutte le altre, ma come vedete di queste tre lesioni, un anno dopo, la prima sviluppa criteri, cioè non ho bisogno della foto precedente per dire che adesso la lesione è più sospetta, giusto? Perché c'è più regressione e più irregolarità. La seconda lesione è uguale, uguale, sviluppa più regressione, si ingrandisce in maniera simmetrica, quindi non ho troppo bisogno di vedere il precedente perché qui sono già molto sospettoso, questa terza lesione invece si modifica di meno e quindi mi sono aiutato con la foto precedente perché ho visto che la lesione è cresciuta ed è cresciuta in maniera asimmetrica. Quindi in un terzo dei casi abbiamo bisogno della foto precedente, in due terzi dei casi non abbiamo bisogno perché il melanoma sviluppa i criteri. Ultimissimo dato che volevo condividere con voi è questo sulla questione dei nei con i globuli in periferia. Anche qua ragazzi, basta, rassereniamoci costi nei. Veramente, ci è venuto troppo stress, sono nei normali, sono nei in crescita. È chiaro che non siamo stressati di fronte ad un nevo con questi globuli in periferia se parliamo di un ventenne, di un trentenne, però cominciamo a stressarci se lo vediamo sulla schiena di un quarantenne, di un cinquantenne. A parte che un quarantenne e cinquantenne è ancora giovane, o no Massimiliano? Cioè, giovanissimo, un ragazzino, proprio un ragazzino. E quindi, hai capito? Quindi, stiamo parlando sempre di ragazzini. No, il dato buono è che ci siamo resi conto che abbiamo messo assieme, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo assieme i nostri melanomi con i globuli in periferia e ci siamo resi conto che in tutti i casi di melanoma con i globuli in periferia c'è sempre un criterio in più di melanoma che ci fa fare la diagnosi. Non so se rendo l'idea. Cioè, se vediamo un neoglobulare con solo i globuli in periferia e al centro tutto bene, non è un melanoma, è un neo. Quindi possiamo stare sereni. Viceversa, esistono melanomi, questo è un melanoma, esistono melanomi con i globuli in periferia. Ma al centro, sarete d'accordo con me, non è una lesione che lascia indifferenti, o no? C'è regressione, c'è melanofagi, c'è il criterio di sospetto. Ecco, questo è l'ultima cosa che volevo condividere con voi e vi ringrazio davvero infinitamente per l'attenzione. Grazie. Grazie a tutti.